ragazzi sono appena scaduti 14 giorni del freestyle livre lo vediamo abbiamo tolto praticamente in acqua alessandro fai vedere se ti è rimasto il segno del freestyle livre il segno dell'abbronzatura fai vedere è un pochettino va bene dopo la vediamo va bene comunque ha resistito vedete come è fatto qua c'è il suo filetto c'è questo piccolo filetto va bene e li lasciamo giocare ciao ragazzi